La cosa interessante è che se io non avessi messo l'acqua, e avessi messo l'acqua, mi stasera venuta con tutti i tassetti di sottotitoli. Cioè io ho messo anche tutti i tassetti dell'acqua. Però io ho messo anche tutti i tassetti dell'acqua. Però io ho messo anche tutti i tassetti dell'acqua, perché il bravigio dice che c'era un problema. Ma con la catetica non sarebbe un problema. Io ho messo l'onimo appunto di lavoro su internet, e anche tra le cose, tu sono Max, io ho messo sempre in esperienza, come in vari ditte, chiuderebbe la scena spaziale. Allora, io ho messo tutti i tassetti di sottotitoli, in questo modo non sono sicuramente sottotitoli, con delle situazioni di grafici, con delle gestioni di gestioni di testo premoti, in multimedia, in barriamo. E dal 2012 sono stato invitato a far parte della TN. Sì, sono stato invitato a far parte del gruppo di amministratori di Slack Bates Org, che è un sito che produce scherze per fare pacchetti di dance party e che collaborano con loro da più di anni. Questo è il menù della presentazione. Prima un po' di storia di Slack, poi parlerò della filosofia di Slack Bates, come è fatta con il mio programma generale, che è scoperto per me, come sono fatti i pacchetti di Slack Bates, come si mette del software di terze parti, e nello specifico come funziona il sito con il collaboro Slack Bates Org, e poi anche quale potrà essere una specie di futuro, di previsione del futuro per Slack Bates, e come contribuire al gruppo di Slack Bates. Poi ringrazio a due sviluppatori di Slack Bates che hanno fatto delle presentazioni simili, ci ho preso un po' di spunto anche per fare questa presentazione, ho preso delle GIF, che sono una presentazione da e-bossi di Slack Bates. Slack Bates è di fatto la distribuzione più antica Linux che è ancora attiva. La prima release risale al 1993, cioè più di vent'anni fa, anche se in realtà è stata già nata prima, che era nel 1993, perché Warkelding studiava alla Mureb, in Minnesota State University, e praticamente studiava un pochettino anche come funzionava il sistema operativo, e faceva dei corsi di programmazione, seguiva dei corsi di programmazione. E a un certo punto si è trovato di fronte a fare un corso di MISCO, e questo corso di MISCO praticamente aveva un interprete nella loro università che girava sotto l'OS. Però c'era, tra le varie distribuzioni che aveva trovato, una distribuzione in particolare, la Soft Landing Remote System, che aveva un interprete MISCO integrato che funzionava molto meglio di quello che avevano sotto l'OS. Allora lo propose anche il professore, che mi disse, ma qua installavano nell'Aula questa distribuzione, che era una distribuzione commerciale, però poteva essere installata su quante proprietà si voleva, andava comprata. non c'erano i sorgenti di questa distribuzione, le distribuivano solo i binari, e lui la installò su tutti i computer che c'erano lì nell'Aula, e modificò parte della distribuzione per fare in modo che si potessero parte dell'installazione automatizzata, perché quello che veniva richiesto, e poi dopo per chiedere al professore, quando le farò il corso l'anno prossimo, io mi sta qui e voglio avere la possibilità di installarla anche l'anno prossimo sul computer in modo automico, e lui la personalizzò un po'. Cosa successe? Che nel fare tutto questo modifico, tra l'altro corresse un sacco di bugger, c'erano delle cose in particolare che corresse per l'installatore, e l'installatore della Softland New System, nella versione che avevano loro, praticamente, di Allar e Nutsky. Cosa faceva? Considerava che la prima partizione del primo dispositivo collegato fosse una partizione di swap. In realtà, sulla prima partizione del primo disco collegato, in genere c'era installato un sistema operativo, e quindi praticamente quando lui installava la Softland New System così come veniva distribuita, cancellava il disco. Lui sistemò anche questa cosa qua, e tanti degli utenti anche di Softland New System mi disse, ma perché non la distribuisci? Questa situazione che hai fatto che con tutti i barchi che c'erano le, non c'erano i rischi, questo è il caso che si usi questa invece che l'altra, no? E lui tirò fuori questo nome, Slaper, perché lui è un adepto della chiesa del Sauginus, e la chiesa del Sauginus è una delle cose che, diciamo, è una chiesa ironica, è una chiesa per ridere, per ridere delle altre meravigioni. E una delle cose che professa la chiesa è lo Slap, cioè il riposo indolente. E quindi fece questa distribuzione, che nelle sue idee doveva essere una distribuzione dove uno si trovava già tutto bello e pronto, non doveva fare nessuna fatica per installarla, così com'era, la usava, e quindi la chiamò Slapware. Un minimo di storia delle riviste Slapware dalla 1, che praticamente aveva un installer testuale, poi qualche tempo stesso si messe a scrivere dei pezzi di un software chiamato Dialog, in modo che avesse la possibilità di fare un'installazione semigrafica, per esempio la pagina di Dialog, questo è un esempio di Dialog. Praticamente si lavora sempre in console, però c'è questa apparenza grafica basata sulle librerie e nei corsi. Nei pezzi l'ha scritto lui direttamente proprio per l'installer di Slapware, che è uscito il 5 febbraio del 94, con la lezione 1.2, che c'era il primo installer reale, semigrafico, diciamo. Poi c'è la lezione 3.3, che è uscita nel 97, che è la distribuzione più antica di Slapware, che è ancora a disposizione sui librerci, cioè se uno vuole la distribuzione lì, che c'è il terminal Linux 2.0, se vuole se la vuole ancora installare sull'hardware, e per l'hardware che supporta il kernel è perfettamente funzionante, la vuole usare. Poi c'è la versione 4, che è più o meno la versione della distribuzione con cui ho iniziato il nostro Slapware. Prima ho utilizzato Debian, ho utilizzato anche gli error done Linux, perché avevo un PowerPC, e è la prima release di Slapware, che forniva anche l'ambiente di desktop 8KD. Poi c'è la 7.1, che è la prima release che distribuisce Gnome, poi c'è la 10.2, che è la prima release dove Gnome non viene più distribuito, perché praticamente era diventato troppo oneroso da mantenere, quindi siccome la maggior parte della distribuzione l'ha sempre sviluppata da solo, nel corso dei piani, non ce la faceva a mantenere un ambiente grafico complesso di Gnome, quindi a un certo punto nel 2005 l'ha abbandonato. Altre persone si sono offerte di entrare al posto suo, cioè mantenere una versione per Slap, sono sorgi altri due progetti, uno che si chiama Gnome Slap Build, e un altro che si chiama Dropline Gnome. in realtà però anche loro rimangono sempre un po' indietro perché Gnome è sempre più complesso, e non sono tante persone che non ce la fanno starci dentro. Poi con la versione 11, è l'ultima release dove c'era interno il 24 a disposizione, era già stato inserito il 26, con la versione 12.1 c'è la prima installazione delle funzionanti via di PQ10, cioè di PNFS1, potrei installarlo anche con un dischetto minimale, metterlo nel computer, poi si installava tutta la distribuzione delle reti. Con la 13, diciamo, ci sono cambiamenti un po' più grossi, perché a parte l'inserimento di KDE4 che sostituisce KDE3, è la prima versione che viene offerta di Slap, che era anche a 64 bit. Per offrire una versione a 64 bit praticamente tutti i pacchetti sono stati compilati. in genere nelle lezioni precedenti i pacchetti spesso, se non c'era bisogno, non venivano nemmeno ricompilati. C'erano dei pacchetti che venivano offerti, faccio per dire, con la versione 12 che magari risalivano alla versione 7.1, perché il motto è sempre stato se non è rotto non c'è bisogno di aggiustarlo. I pacchetti funzionavano, perché erano distribuzioni. Invece con la versione 64 bit, siccome doveva essere una versione completamente nativa, la versione a 64 bit, hanno dovuto ricompilarla tutta e hanno dovuto adattare gli scritti in modo che fossero utilizzabili sia sulla versione a 32 bit che sulla versione a 64 bit. E' stata una verifica globale, un passo importante, tra l'altro è una delle prime distribuzioni a 64 bit che è più uscita. E poi c'è la versione 14 che è l'ultima distribuzione statica, nel mezzo c'è tra la 13.1 e la 13.37, e poi la 14. E la 14 praticamente c'è l'importante il salto da HAL a ODEV e l'allineamento con l'architettura ARM, perché di Slackware non esiste anche una versione specifica per i processori ARM, curata da un'altra persona che si chiama Stuart Winter, sempre un collaboratore di Slackware. E con la versione 14 praticamente le versioni del software distribuito si sono allineate. Cosa c'è a Slackware di particolare? che Slackware è la distribuzione Linux è più simile agli Unix che la gente era abituata a usare vent'anni fa, ma anche in pochi anni fa. Cioè se uno utilizza Slackware, la struttura del file system, tanti dei tool, li ritrova in qualunque altro Unix che va a utilizzare. Cioè si è evoluta nel corso del tempo, però ha sempre mantenuto la base di tool, diciamo le cose che offre come base, sempre le solide. Non è mai cambiato di come struttura, diciamo, introducendo dei sistemi nuovi, per esempio ci sono le altre distribuzioni che hanno inserito un sistema di autenticazione che si chiama PAM. Praticamente questo sistema di autenticazione Worker Day non l'ha mai inserito perché ha pensato che non funzionava e quindi ha adattato tutto il software che poi ha distribuito i Slack in modo che non supportasse per niente questo sistema PAM. Ora si è parlato di inserirlo ora che sono passati tipo 12 anni da quando è stato inserito, però tuttora non l'ha ancora messo. Una volta l'ha paragonato al Broviera che era una cosa che non era particolarmente sicura. Però insomma è rimasto sempre molto stabile come organizzazione. Slack non ha una data di rilascio fissa, mentre c'è distribuzione tipo Ubuntu che viene detto il giorno X viene rilasciata la nuova lezione e Slack viene rilasciata quando è pronta. Cioè il loro motto è it's ready when it's ready. Prima no. Quando lui decide che a quel punto lì va bene, è stabile, funziona tutto, non c'è più nessun problema e ci vuole un po' perché testa parecchio la distribuzione, in quel momento lì viene rilasciata. Quindi il software che viene incluso però non è che sia software vecchio, è software recente, soltanto viene molto testato, viene sempre verificato se funziona con tutto. Ora per esempio sta per uscire la nuova lezione che è la 14.1 e sono uscite già le prime RC della distribuzione, siamo già oltre la RC2. Al momento che ha dichiarato la distribuzione RC2, la cittadina ci ha messo un compilato, un'ultima lezione del GCC di uscita, il compilatore 482, che non ce l'ha nessun'altra distribuzione, semplicemente perché ha valutato che tra la 481 e la 482 del compilatore fosse solo per una versione di bug fix e anche se non ce l'aveva nessuno, invece l'ha messo e allora usciva la nuova versione a giorni, forse passano anche un pochettino, qualche settimana, che ha la versione del compilatore più aggiornata di tutti i Linux che ci sono. Poi un'altra cosa molto importante è che non esiste uno strumento centralizzato e svato per la configurazione del sistema, io non so se qualcuno di voi usa SUSE o altre distribuzioni simili, su SUSE c'è uno strumento che si chiama IAST che praticamente permette la configurazione centralizzata del sistema, la rete si configura da IAST, il monitor si configura da IAST, invece Slackware praticamente tutte le cose che ha incluse vengono configurate direttamente come vogliono gli sviluppatori originali, per esempio se faccio un esempio, uno ha ALSA che è un sistema per la gestione dell'audio, ALSA si configura come vogliono gli sviluppatori di ALSA, non dal pannello di controllo dedicato dell'audio che poi tra l'altro qualcuno dovrebbe anche mantenere, cioè se viene sviluppato un pannello di controllo dell'audio per Slack e poi uno volta a volta che si va avanti dovrebbe mantenere e quindi vi chiederebbe anche parecchia forza lavoro, è un po' diciamo una scelta tradizionalista e un po' è anche una scelta di necessità perché lui è da solo a gestire questa cosa, quindi però è una scelta che funziona poi alla fine. i file di configurazione di Slack 99 su 100 sono dentro Edge, sono dentro la cartella del file system Edge, sono file di testo, sono leggiti, sono ben commentati quindi quando qualcuno li legge sopra c'è scritto a cosa fa l'opzione X, quindi uno semplicemente si mette lì, legge i file dentro Edge e impara un sacco di cose su come funziona la configurazione del software che è installato sulla propria macchina. Anche i pacchetti di Slackware sono generati tutti tramite script shell, la shell è lo strumento essenziale per l'utilizzo di Slackware, viene fatto tutto tramite la shell, io per esempio l'unica cosa che utilizzo sul computer a parte la shell sono Firefox, perché ormai tutti i siti vanno visti in modalità grafica e uso Thunderbird per pigrizia, però tante persone leggono la posta, faccio per dire con Pine o con altri strumenti testuali, non hanno necessità di questo, però io uso, diciamo, sono pigro e sono abituato ormai a leggere la posta in ambienti grafici, però a parte Firefox e Thunderbird io faccio qualunque altra cosa faccio sul computer tramite la shell, in effetti si può fare tutto, io quando ho imparato a usare Linux la prima cosa che mi ha detto la persona che mi ha spronato mi ha detto guarda leggiti il manuale di Bash perché la cosa più importante che userai sul sistema che vai a usare è la shell da cui farai tutto, infatti anche gli script per generare pacchetti di Slack sono fatti tramite la shell, cosa fanno gli script? praticamente quando uno installa un software, un software generato con gli auto-pulse cosa fa? fa configure, make e make install gli script di Slack fanno la solida procedura che uno farebbe manualmente semplicemente messa per esteso in un file, in uno script se c'è delle correzioni da fare tipo che ne so, viene fatta qualcosa di particolare che non è il caso di fare oppure non è applicabile a Slack e viene corretto però in genere in genere non viene toccato niente nella procedura di installazione di un programma mentre altre distribuzioni come punto personalizzano il pacchetto mettendoci quella cosa, l'impostazione che ne so, grafica che è tipo punto style o queste cose qua Slacker lascia sempre tutto com'è non tocca niente perché la logica è quella di lasciare tutto semplice leggibile quindi keep it simple, stupid appunto e se non è rotto non aggiustarlo non ti mette la smanettare dove non devi lascia tutto com'è poi se c'è qualche problema eventualmente segnalalo agli sviluppatori originali se pensi che quello è il pacchetto che ti viene offerto ci abbia qualche funzionalità che non c'ha non c'è da aggiungere informa agli sviluppatori originali e loro penseranno eventualmente aggiungere alla base del pacchetto ah ecco non ci sono strumenti specifici di configurazione non centralizzati e nemmeno singoli l'unica cosa ci sono siccome appunto lui aveva sviluppato questo dialog ha creato degli script shell e dialog per la configurazione della rete oppure per non so per configurare quale window manager uno vuole diciamo come default per l'utilizzo quotidiano però niente di più di quello e con questa cosa qui forse l'ho già detta niente si praticamente ecco la cosa fondamentale è questa cioè che Slackware non suggerisce delle soluzioni non richieste cioè se uno vuole installare Linux e vuole personalizzarlo usarlo come gli pare Slackware è una delle distribuzioni più semplici da usare perchè avendo questa struttura tutta di file testuali e file shell è estremamente personalizzabile è talmente personalizzabile che è una delle tre quattro distribuzioni diciamo che è stata forcata più volte cioè è stata presa Slackware è stata personalizzata facendoci altre distribuzioni insieme a Debian anche d'ora che e e e in termini recenti praticamente ci sono un sacco di fork di Slackware in giro prima l'ho fatto vedere quando ho parlato della distribuzione quantica di Linux ho fatto ah ecco questa presentazione è una presentazione HTML è disponibile su internet a un libro questi di che vedete con Celesti sono tutti click linkabili ora poi alla fine se volete poi approfondire questo genere di cose potete andare sul sito cliccare sui link e e vedervi anche questa cosa una diciamo di queste cose qua questa qui per esempio è la new Linux distribution timeline che fa vedere le varie distribuzioni quante volte sono state diciamo forcate e sono state create nuove distribuzioni questa è la Red Hat questa è Slackware per cui per esempio faccio vedere questa linea verde è Suse Suse è nata con la traduzione in tedesco di Slackware quella lassù in cima è Delian e poi c'è sotto Delian questa qua l'Oguntu infatti l'Oguntu ha moltissimi fork però diciamo dopo queste tre è quella più più forcata è proprio Slackware allora è nato anche è recente un diciamo un reposito centrale di documentazione di Slackware che è Docs Slackware.com dove viene pubblicata documentazione multilingua quindi se qualcuno per dire oltre a leggersi i file da dentro Edge le pagine mani vuole un po' di documentazione specifica su Slackware c'è Docs Slackware.com ma è disponibile anche già da prima di Docs Slackware.com la documentazione della comunità italiana che sarebbe 2KiSlacki la documentazione italiana è Slackware il sito italiano diciamo di riferimento di Slackware è Slackware e qui pure c'è tantissima documentazione che è stata fatta dagli utenti italiani nel corso degli anni ora una cosa importante da dire di Slackware è che non c'è lo sviluppo di Slackware è chiuso non è che c'è un repository svn jit qualcosa dove uno va e vede le modifiche che sono state fatte al codice c'è il changelog di Slackware dove viene detto ho fatto questa modifica a quest'altra ma non sono dettagliati questo genere di modifiche non c'è nemmeno un bug tracker non è che uno va lì e dice io ora registro questo bug e poi dopo qualcuno eventualmente ne lo risolve la segnalazione dei bug viene che uno manda un'email a porcherdinger direttamente oppure scrive sul forum inglese e dice c'è questa cosa che non mi funziona da così però ecco questa cosa qui non vuol dire che la cosa genere le segnalazioni vengono sempre prese molto sul serio non vengono prese sul serio soltanto da porcherding diciamo un gruppo di persone che lavora insieme a porcherding sulle cose io per esempio mi è capitato di recente di occuparmi di Firefox ci ho fatto la traduzione italiana ho fatto ho adattato lo script in modo di build di Firefox in modo che potesse fare anche Firefox direttamente già localizzato oppure utilizzando il sistema di build che usa Mozilla cioè di PGO praticamente che è un'ottimizzazione durante la fase di filter che ci metto un sacco di tempo uso un sacco di RAM però poi alla fine fa un binario che si comporta molto meglio ma molto più veloce ora dicevo prima uno può suggerire diciamo nuove soluzioni per Slackware facendo delle proposte e tutto però poi alla fine chi decide sempre alla fine è Borkerding che è soprannominato anche BDFL cioè Benevolent Dictator for Life cioè il dittatore benevolente a vita perché lui avrà sempre l'ultima parola su Slackware finché capa e decide lui cosa metterci cosa non metterci dentro Slackware anche detto eh sì vedo anche e vi ringrazio diciamo la varia comunità Slackware ecco facciamo un esempio pratico cosa succede quando arrivi a Slackware Slackware come tutto lo ha vero storicamente praticamente soltanto nell'ultima versione quella di sviluppo è stato messo Google nella versione 2 perché praticamente Google nella versione 2 si comporta molto meglio che il boot da BIOS EFI quindi è stato inserito però storicamente c'è sempre stato l'ILO per fare il boot e poi come servia? praticamente ha un sistema di avvio misto DSV since the file limit e servia di default una volta installata era level 3 che sarebbe una modalità testuale molto utente quindi uno l'avvia e ha una schermata così no? e uno dice ma che è sta roba? sembra il DOS no? una schermata testuale così che roba dice no è così perché in effetti l'utente ha la possibilità di scegliere come usare Slackware una volta che l'ha installata può usarla o in modalità testuale e quindi c'ha tutta una serie di strumenti per usarla esclusivamente in modalità testuale c'ha lettori di news client di post in modalità testuale browser testuali client di rete ftp di qualunque tipo editor lettori multimediali qualunque cosa c'ha per usarla in modalità testuale uno può usarla anche per farci un server quindi magari la modalità grafica non gli serve proprio a niente insomma quindi parte in modalità testuale poi se uno vuole avviare la modalità grafica scrive StartX parte X utilizza la modalità grafica se poi qualcuno lo vuole utilizzare sempre in modalità grafica basta che cambi un valore nell'init tab c'è una riga init default set a 4 e l'init 4 in Slackware è la modalità grafica con il login manager grafico e uno fa login grafico nell'ambiente desktop che più non gli piace come si avvia Slackware? Slackware utilizza degli script che sono dentro e c'è RCT che è il sistema di avvio BSD ovviamente c'è uno scritto principale che è RCS che fa l'inizializzazione del sistema poi c'è RCS a sua volta chiama RCN che fa l'avvia della sessione multiutente e poi c'è RCK che avvia invece la sessione che è l'utente singolo viene usata quando uno avvia il 1.1 c'è RC4 che praticamente lancia il login manager e poi ci sono questi altri script che ho preso un paio di esempi per esempio RCN1 e RCN2 che vengono eseguiti da RCN che servono per avviare i servizi di rete e prima di iniziare la rete poi avviare i servizi di rete poi c'è RCS file init che praticamente serve per la compatibilità con il sistema di avvio system file perché tante altre distribuzioni utilizzano il sistema di avvio system file con i file dentro RCN2D e poi i vari run level dentro RCN2D, 3D, 4D con i servizi che vengono avviati a seconda delle run level e è compatibile Slackware anche con questi sistemi perché tanti software commerciali che funzionano mettono script in quelle cartelle quindi hanno bisogno di una compatibilità se uno vuole far girare un determinato software commerciale con dei servizi demoni che partono alla via e poi c'è RCN local che avvia i servizi locali RCN local può essere popolato come uno vuole il RCN local di default finisce alla fine di quei commenti poi se uno vuole ci mette quello che vuole questo fondamentalmente è anche come funzionano gli altri script di init cioè come funziona se c'è un file che si chiama ghiblirt questo è proprio sintassi shell scritta se c'è un file che si chiama rcliquivit dentro hrcp ed è eseguibile allora fai partire il servizio così funziona anche per tutti gli altri sistemi se uno vuole disattivare un demo una partenza semplicemente rileva l'eseguibilità al file rc corrispettivo tipo voglio disattivare rsh cmod-x rcssh che non mi parte il server rssh poi qui per esempio eseguo una sincronizzazione di un orologio una tantum faccio di un'altra operazione locale se ho bisogno di fare operazioni locali questo tipo per esempio serve per condizionare il palo di realtà in più meglio la gestione di pacchetti viene utilizzato degli altri strumenti che ha scritto sempre volkering e sono sempre anche questi script di shell cioè install package new package strong package fanno bene o male quello che che è descritto nello stesso nome upgrade package make package per fare i pacchetti e package tool che è un frontend di questi altri strumenti fatto sempre con le librerie d'aero e non esiste i slaper e questa è la cosa più importante di tutto un sistema di risoluzione delle dipendenze Slackware non considera la risoluzione delle dipendenze perché viene offerta come un blocco unico cioè uno scarica il DVD di Slackware e le installa tutta sono 7 giga 7 giga e mezzo di distribuzione questo perché perché non è considerato prima di tutto che lo spazio oggi non sia un problema mentre ora i dischi sono da decine di giga quindi dedicarmi 7 giga e mezzo a un'installazione è una cosa fatica e poi anche perché quello che deve essere offerto è uno strumento che funziona in tutte le situazioni cioè nel senso è più la fatica intanto qual è il problema con la risoluzione delle dipendenze? che qualcuno decide perché cosa dipende da cosa no? quindi qualcuno deve decidere per te che ne so che il sistema che te che il player audio che ti usi dipende da alza piuttosto che da pulsa audio quindi quello che viene fatto con Slackware a parte diciamo il blocco centrale è lasciare decidere all'utente quello che vuole che dipenda da cosa viene tanto dato una base per l'installazione che è omnicomprensiva c'è tutto nella base non ci manca non ci manca niente e le installazioni minimali quindi non sono ufficialmente supportate uno se vuole le può anche fare soltanto le fa come si dice per via trial and error uno prova installa un pacchetto si vede se vuole installare diciamo i pacchetti di quelli che ci sono se vedono che qualcosa non c'è si mette lì con i link e controlla via link se mancano delle librerie cerca la libreria dov'è installa il pacchetto corrispondente e così piano piano c'è un sistema funzionante con un'installazione minimale però lo deve fare il proprio uno magari lo può anche fare così e magari impara anche cosa dipende da cos'altro non è solo una questione di linker a volte ci vogliono i binari quindi non è così semplice però piano piano uno facendo così impara esiste anche un altro strumento per la gestione dei pacchetti molto più automatico che si chiama Slack Package praticamente Slack Package permette di aggiornare i pacchetti in modo automatizzato una volta che uno lo definisce un repository e dice guarda il repository è questo che fammi l'aggiornamento dei pacchetti installami gli aggiornamenti può essere usato anche per passare da una versione di Slacker a un'altra dalla versione 13 alla versione 13.1 ci sono anche degli strumenti di terze parti che si offrono di risolvere le dipendenze e fare quello che non fanno gli strumenti che ci sono nel Slacker tipo Slacker e anche dei repository di pacchetti gestiti da persone però è molto delicato sempre perché intanto bisogna avere fiducia nei repository che si usano può darsi che alla fine queste persone che fanno i pacchetti ci mettono dentro qualcosa ci mettono anche degli spyware no? quindi uno bisogna che abbia fiducia nelle persone che aprono questi repository di pacchetti e quindi in genere conviene sempre gestizioni da sole l'aggiunta di pacchetti ulteriori rispetto alla Slacker vi ho fatto un esempio che succede quando si gestiscono male i pacchetti come sono fatti i pacchetti Slacker? sono la cosa più semplice del mondo praticamente sono un albero di cartelle dentro un file tar compresso non c'è niente altro dentro un pacchetto Slacker c'è solo il contenuto quello che serve che viene una volta compilato lo sviluppatore originale vuole che sia nel pacchetto e non c'è proprio nient'altro tra l'altro gli strumenti di installazione di Slacker permettono di utilizzare durante l'installazione la variabile di ambiente root in modo che se uno vuole si installa il pacchetto anche in un'altra cartella all'interno del file system questo può essere utile per esempio quando uno usa strumenti di virtualizzazione che hanno bisogno che l'installazione di un sistema operativo client giri da una sottocartella del file system io per esempio l'ho usato perché una delle cose di cui mi occupo su Slacker è lo sviluppo di LXC che è un sistema di container di virtual container che si basano sui sviluppi del kernel e quindi si appoggiano a delle sottocartelle e quindi ho usato diciamo per definire il template di installazione di Slacker come ho scritto io questo variabile root e l'unica cosa che ci aggiuntiva nel pacchetto è una cartella install che contiene due file che poi dopo questa cartella una volta installato il pacchetto viene tolta c'è un file slack desk con la descrizione del pacchetto il file winst shell con uno script shell da eseguire una volta che il pacchetto è installato eventualmente se uno deve aggiungere delle cose tipo dei link o aggiornare un database una volta che è stato messo il pacchetto in modo specifico i pacchetti non sono divisi tipo in ora qui cito per esempio i bookstools i bookstools bin i bookstools dev i bookstools lib uno con i binari uno con i file leader per la compilazione un altro con le librerie ma sono tutti insieme in un pacchetto unico per esempio qui ci sono c'è il binario dentro us.bin le librerie dentro us.bin e la documentazione è sempre dentro us.doc nome del pacchetto e le lezioni del pacchetto sempre così per tutti i pacchetti i file slack desk e due list shell che qui ho riportato per esempio sono poi dopo una volta che è installato il pacchetto sono messi file slack desk dentro varlog packages dove c'è aggiunto anche il diciamo la descrizione del file la dimensione del file questo contenuto qui che vi ho fatto vedere prima viene sempre anche questo dal file varlog packages e poi basta non ci abbiamo messo altro questo file list praticamente va a finire dentro varlog script non è pacchetto in modo che uno abbia sempre a disposizione le operazioni che sono state fatte quando è stato installato il pacchetto non ci sono database di pacchetti cose particolari questi sono file di testo che se uno vuole può anche manipolare senza gli strumenti specifici della distribuzione di questa manager ma semplicemente usando strumenti come cut o grab sui file perché sono soltanto file di testo sono gestibili in modo anche autonomo ora qui per esempio ho riportato anche lo script shell che crea il pacchetto del booktools per far vedere com'è uno script che fa un pacchetto slacker praticamente cosa c'è? qui c'è la variabile che definisce il nome del pacchetto la versione del pacchetto che in questo caso come molto in pacchetti slacker è ricavata direttamente dal nome del tarbo che è nella cartella da chi viene esempito lo script poi c'è la versione di build poi c'è il numero questo è il sintassi shell è abbastanza semplice io mi descrivo diciamo in modo generale come come sono come viene fatto il pacchetto c'è il numero dei make jobs che devono essere fatti tipo che in solito viene fatto il pacchetto con sette processi contemporaneamente poi sulla base dell'architettura che viene veduta dalla dalle che è un'istruzione che mi fa vedere l'architettura del kernel sulla base dell'architettura io poi dopo diciamo nello script nel pacchetto vengono definite delle variabili per esempio viene definito se la libreria deve essere installata con una cartella che ha commesso fisso alla finale 64 perché sui sistemi a 32 bit le librerie vengono installate dentro us-lit 64 un'altra cosa per esempio vengono definite le flag di compilazione le flag di compilazione per slatteri sono sempre abbastanza conservative cioè per esempio qui viene utilizzato un flag di utilizzazione O2 non O3 O4 O N perché una delle cose che ha verificato Volker è che come eserciato il software utilizzando le utilizzazioni O3 un pochettino si perde di stabilità non si comporta bene il software si è compilato con O3 ah non aspetta poi c'è sempre nell'esempio di pacchetto c'è varie definizioni varie variabili quella della cartella temporanea viene scompattato il cardboard viene eventualmente se c'è bisogno applicate delle patch ma è una cosa molto rara in questo caso qui viene applicata perché praticamente non supporta le book tools l'installazione delle librerie dentro il Fus64 ma l'installazione solo del Fusb poi viene fatta una sistemazione generale dei permessi dei file del pacchetto se ci sono file esegibili non vengono più resi esegibili se le cartelle non sono esegibili in modo 755 vengono sistemate anche quelli dei file vengono messi a 644 e poi dopo viene fatto il pacchetto praticamente per fare il pacchetto viene utilizzato c-make quindi viene eseguito c-make poi dopo viene fatto il make con il numero di lavori che ho deciso e make install poi viene fatta delle correzioni dopo se c'è bisogno in questo bello qui per esempio c'è un problema di licenze e un affare di ebook tools cioè light tool pub ordinario richiede il clit che è un software praticamente che ha delle restrizioni della distribuzione quindi visto che non funzionerebbe viene tolto dal pacchetto poi dopo viene fatto lo scripting dei binari e delle librerie viene aggiunta la documentazione viene aggiunto il file di descrizione e viene fatto il pacchetto questa è proprio una procedura molto standard di creazione di un pacchetto di slapper ora ho detto slapper è un blocco unico come funziona se vuole installare libri office che non c'è in slapper vuole installare acrobat o vuole installare che non so audacity che non c'è in slapper su slapper può utilizzare se non si vuole appoggiare a un sistema di pacchetti esterni quindi non si fida per i discorsi che vi ho fatto prima può utilizzare Slack Buildsorg Slack Buildsorg è nato da alcuni degli sviluppatori di Slack Buildsorg che praticamente volevano offrire alle persone un modo per farsi da soli i propri pacchetti quindi Slack Buildsorg è un repository di script per fare i pacchetti non è un repository di pacchetti quindi uno se vuole si scarica lo script per fare il pacchetto di lì si scarica i soggetti si compila il pacchetto e c'è il pacchetto installato ci sono a disposizione dei template perché vuole scriversi dei pacchetti per conto suo esistono template per ogni genere di linguaggio non ci vedo 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 il pacchetto questo template sono tutti commentatissimi in modo che chi vuole si mette lì e si legge e ha la possibilità di capire anche come viene fatto il pacchetto ogni passaggio è descritto diciamo nel fare il pacchetto questo qui è basato sull'output quindi è configurare make poi ci sono altri sistemi per fare pacchetti tipo pacchetti che richiedono come sistema di build shimake in questo caso qui viene utilizzato come veniva fatto vedere prima shimake poi c'è che ne so un template apposta per fare dei pacchetti del trail e quindi è utilizzato uno se vuole può utilizzare un metodo o un altro per fare pacchetti però diciamo è sempre tutto è tutto molto commentato poi c'è anche un canale IRC siamo a disposizione anche per dare dei chiarimenti su queste cose qui eventualmente se uno vuole mettersi a fare pacchetto ci sono delle obiettive da seguire anche quelle molto ben dettagliate poi uno fa il pacchetto e sottomette il pacchetto tramite un forno web poi dopo noi che cosa si fa? si prende il pacchetto diciamo il table sottometso dove ci sono i vari componenti del pacchetto c'è il file il file info dove ci sono le descrizioni dei pacchetti un attimo vi faccio vedere il file info perché questo è molto interessante il file info praticamente c'è in cima il nome del programma poi la versione del programma la on page del programma il link al download dei sorgenti del programma il check md5 del pacchetto dei sorgenti poi se il pacchetto faccio per dire un binario esiste una versione per 32 bit una per 64 bit allora si indica anche il download dei 64 bit e il md5 dei 64 bit la linea requires quella è quella dove viene scritto che genere di dipendenza bisogna il pacchetto faccio per dire ffm tag ha bisogno di alcune librerie e multimedia e praticamente le idee sono indicate in quella riga nella riga poi il file rdmi è indicato pure quello in alcune situazioni quando per esempio io per installare un software devo creare un utente prima se devo creare un utente la cartella deve avere il permesso di un utente descrivo queste cose nel file rdmi e quindi è richiesto che le persone che installano qualunque pacchetto prima si leggano il file rdmi del pacchetto in questo modo se c'è passaggi da fare prima dell'installazione uno prima lo legge nel file rdmi poi è indicato il nome del mantenere e l'email e poi cosa facciamo queste cose noi praticamente ogni sottomissione la mettiamo dentro un reposito ricetta il nostro workflow è un esempio questo qui per esempio nei giorni scorsi ho dovuto fare approvare dei pacchetti di queste persone qua vi scriviamo sotto un pacchetto per esempio vi faccio vedere un pacchetto nuovo questo Trump che è un sistema che deve evitare i file di un network con Emacs no? quindi praticamente ho fatto queste ho dovuto approvare questo script che è stato sottomesso da una persona c'è tutta una serie di standard per seguire che sono descritti nelle cose e per il momento ho dovuto fare anche diverse correzioni perché le persone che sottomettono in genere non leggono quasi mai nella documentazione quindi alla fine tocca sempre fare un sacco di correzioni però in genere è un'operazione abbastanza lineare poi dopo a un certo punto quando c'è tutta una serie di script sottomessi praticamente il lavoro per esempio che anche Roby Workman che è un altro dell'amministratore il software viene unito insieme e viene registrato nel repositorio principale che è un repositorio anche HTTP e le persone possono utilizzarlo diciamo con dei targol firmati al di fuori diciamo dal procedimento totalmente che ora esiste anche uno strumento che tutta questa operazione di scaricare il targol scaricare i sorgenti del software e compilarli installare i pacchetti lo fanno in automatico questo tool si chiama è un tool comodissimo praticamente io per esempio lo utilizzo sulle mie installazioni uso il supporto a delle code di compilazione faccio una quota di compilazione contemporaneamente 384 pacchetti senza nessuna interruzione e dopo mezza giornata ha finito e io ho tutto il software fresco fresco compilato per le installazioni un po' alla gentù ecco diciamo però su Slaper è una cosa che viene fatta proprio ogni tanto perchè Slaper è una distribuzione molto stabile quindi non cambia la versione di librerie non c'è bisogno di fare aggiornamenti continui basta fare una volta ogni tanto questa operazione qua è uno software aggiornato di qualunque tipo sulla propria macchina io per esempio gestisco anche nello specifico siccome Slack Mills gestisce cioè supporta soltanto la versione stabile di Slackware io personalmente gestisco anche un reposito dedicato alla versione current di Slackware che sarebbe la versione di sviluppo che praticamente viene rilasciata a una versione stabile poi viene sviluppato in questo ramo current Slackware che ha sempre i pacchetti aggiornati a un certo punto viene introdotta che ne so una nuova libreria C o un nuovo compilatore che rompono la procedura per fare i pacchetti e quindi i pacchetti devono essere pacchetti siccome io ne uso veramente tanti i pacchetti che mi occupano in utilità una cosa o un'altra allora ho fatto questo reggit che gestisco io praticamente dove un sacco di roba che uso l'ha dato per funzionare su pure poi siccome è stata la versione pure praticamente a distanza da un anno da quella sera ci sono state davanti tanti modifiche per usare i pacchetti che non so che io ho dovuto modificare 150 pacchetti diversi e qui ci sono registrati tutte le modifiche e questo riposo che è a disposizione che ho chiuso allora possibile evoluzioni future praticamente Slackware dal recente è stato sincronizzato con diciamo il suo port e anche l'architettura arm però in realtà Ali e Bob lo sviluppatore che hanno fatto diciamo una parte del port a 64 litri ha ora messo tutti gli script e gli script per la prima volta in un apposito al recente e ha fatto in modo che potessero essere utilizzati sulle architetture 33 litri e 64 litri e così quindi in questo momento c'è anche la possibilità di compilarlo per il futuro e vuole ad esempio uno se vuole oggi si sta utilizzando il apposito di Ali e Bob si può compilare il suo telefono perché questo qui ha un accessore armi la reazione armi supporta le armi per il 5 questo qui per esempio è un armi 27 quindi si può fare una reazione di slapper per il suo telefono ci metto un po' a compilarlo però poi un altro problema diciamo un'altra cosa del futuro sono i limiti dovuti alla necessità di mantenere l'estate il senace tante cose possono essere introdotte una di queste cose per esempio il sistema D non so se avete sentito parlare del sistema D è un nuovo sistema che dovrebbe sostituire il limit dentro l'inux che è un po' cioè diciamo è una cosa un po' che va contro la filosofia di l'inux perché l'inux cosa dice? avere tanti processi dove ognuno fa la sua cosa e la fa bene no? il sistema D cosa fa? è un po' come il signore degli anelli no? c'è un anello che li comanda a tutti e lì c'è un processo che sostituisce l'inux e fa tutto lui e se c'è un bug un system D si pianta tutto e non va più niente capite? diciamo a tante persone non le piace questa soluzione perché è proprio concettualmente sbagliata rispetto a come dovrebbe funzionare un sistema Unix ora però cosa succede? siccome quelli che sviluppano lo system D sono la Red Hat e la Red Hat decidono loro che cosa deve essere messo dentro l'inux oggi rispetto a altre case andrà a finire che uno il system D poi alla fine lo dovrà mettere per forza dentro la distribuzione anche se vuole mantenersi classico vuole in maniera un Unix classico poi il system D ci dovrà entrare per forza è una situazione che è veramente giunta il system D faccio per dire se un abituato con un sistema Unix a leggere i log dentro bar log con il system D non lo può fare perché il system D registra i propri log in un formato binario ci vuole un tool apposito per leggere i log del system D non può usare una Red Hat come viene utilizzato normalmente su system D e quindi è una cosa diciamo che volga e migliori la metterà il più tardi possibile se può mai però ha già detto che ci sta che gli tocca mettere perché per esempio cosa è successo di recente quelli che sviluppano i C-group che è un sistema per isolare i processi a livello che è hanno detto che d'accordo con gli sviluppatori e i Red Hat faranno il sistema per sviluppare per controllare i cicli attraverso il system D quindi saremo costretti tutti chiunque usa Linux a averci il system D sul computer potremmo usare delle feature del kernel Linux praticamente il kernel diventa dipendente da un software Reduser Space che è system D che è una cosa sbagliata allora l'ultima cosa poi vi lascio è come faccio a contribuire diciamo ho fatto vedere un tot di cose ho fatto vedere come funziona e diciamo prima di tutto utilizzando Slab perché più siamo o meglio è è una distribuzione che non è così diffusa come Debian o Google quindi più persone siamo più a usarla e sicuramente c'è più persone che la testano più persone che aiutano nel debugger quindi partecipare alla comunità italiana si va a Chievo è già per passo poi se avete voglia potete partecipare anche al forum in inglese che sarebbe Linux e questo è un scritto e potete proporre eventuali correzioni innovazioni però sempre con procedure documentate o addirittura meglio ancora delle patch fatte con DIF in modo che chi vuole poi applicare diciamo queste procedure che voi dite usa il comando patch e le applica direttamente ai soggetti nel pubblico può testarvi in modo pratico evitate diciamo teorie ipotesi spiegazioni ma secondo me sarebbe meglio così secondo me si farebbe meglio così perché se non è documentata o addirittura con una patch pochi mi considereranno perché veramente su questi forum passano c'è un sacco di gente che diceva a me mi guarderebbe che fosse più simile a Ubuntu e a me mi guarderebbe che fosse più simile a Debian e non si la risposta è in genere scusami allora usa Debian allora usa Blanca vuoi fare delle modifiche che voi che siano accettati prima di tutto consigliali agli sviluppatori originali chi ci sta e chi sviluppa quel settore software che puoi modificare magari ne possa beneficiare appunto a Debian o a Ubuntu una modifica di consiglio e poi eventualmente se invece vuoi fare delle modifiche e vuoi però non alterare quello che è sviluppo che è una cosa veramente molto semplice molto lineare ma dice fanno in modo documentato e spiega bene perché volesti fare così poi un'altra cosa ancora si può fare per contribuire degli script di BID a Slack BID insomma praticamente l'unica cosa e l'unica requisito per fare questo è avere un minimo di destino di domestichezza con BASH bisogna che sappiate un pochettino gestire la programmazione BASH è una cosa che ci vuole un poco di pratica però i conflitti tanto aiutano perché uno non ha già un conflitto di idee più o meno come funzionano le cose le cose da correggere in genere per fare un pacchetto sono pochi altrimenti vi ha le regole e se avete tempo e voglia prendete un po' di dimestichezza col sistema di sviluppo tramite JIT perché praticamente ormai JIT sta diventando il sistema controllo versione più diffuso nel mondo cioè chiunque inizia a sviluppare oggi lo fa tramite JIT tanta gente passa da S1 al JIT l'unica eccezione forse è chi sviluppa con Mercurial e tante persone che sviluppano con Mercurial preferiscono diciamo per non fare la fatica di passare con JIT di passare a JIT lavorare con Mercurial per esempio di Sfuglia in Mozilla lavorano ancora in Mercurial però il 90% delle persone che iniziano a programmare oggi lavorano con i Tancani che esistono dei posti complici dove uno può puntecare proprio progetti la gente può continuare con JIT, TAR, JIT, TORUS, ODASET e così via qui ci sono i miei poi dopo quando vi do l'inizio c'è il sito ufficiale c'è il sito ufficiale c'è un paio di notte di Starboard e invece ci sono altre presentazioni sui slatter una fatta dallo sviluppatore del camera una fatta da Vinzenbaz c'è il sito della documentazione ufficiale per la documentazione italiana le pagine unificate sui slatter che sono abbastanza ben documentate sia per l'italiano che per l'inglese e se poi volete dare un'occhiata sui JIT nostro a vedere che lavoro faccio io non male le vedete da questi venti qua che praticamente fanno un grab sia nel nel documento che nell'autore dei TAMIT nel deposito dell'islar inizio e queste slide le trovate a questo indirizzo qua se poi le dovete leggere anche successivamente perché ancora poi le pubblichiamo come su tutto l'indirizzo anche sul sito dell'indirizzo tra lì è la un'ultima grazie 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 grazie